ciao a tutti sono antonio gentile oggi siamo ospiti di statatrà negozio di bologna specializzata in batteria percussioni che ha messo a nostra disposizione questo bellissimo set di congas pearl elite series come vedete si tratta di un modello di congas in fibra con una bellissima finitura l'offerta commerciale della pearl è molto interessante perché per chi acquista questa triade di strumenti in omaggio compresa nel prezzo c'è una coppia di bongo con la stessa finitura della stessa serie ma verifichiamo insieme il suono di questi strumenti con una bella rombetta grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.